È incredibile Fabio, è incredibile vedere come questo ragazzo sappia utilizzare così bene i pollici Guarda, guarda come maneggia bene quel serpente Guarda come non lo sta mandando a sbattere lungo la paretina, Fabio, è incredibile Allora, siamo arrivati alla finale Tahir Hussein dovrà combattere contro un bambino di sei anni che ha rubato il cellulare alla madre Un podcast morbidissimo, morbidissimo, morbidissimo Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Kashmir, un podcast morbidissimo Ah, la cosa... sì, poi qualcuno ha detto che in realtà non è che si senta tanto Sì, però c'è anche chi ha detto che se non lo fai non va avanti col podcast Ah, e allora guarda, in tal caso, visto che noi siamo servi del nostro pubblico Siamo qui per servire, in tal caso, vi beccate questa bella sfrigolata Che Carmelo, vedi come ci sta agevolando, fantastico Sì, Carmelo la sente con gli ultrasuoni, come la gag di Aldo Che quando fischiano il fischietto per i cani, Aldo, no, questo è solo per le menti semplici Si vede Aldo che corre dietro in un grande telchiel telun E... Do you want to say something today? Do you have something to say? Me, what? You know what I told to the queen, what I said to the queen I'm the queen, baby What did you say to the queen? I just told her what I had to say My fried chicken wasn't good Did you notice something weird in Buckingham Palace? Do you mind if I take a little bit of watermelon, it's right there, it's so juicy Scusate, questa è la nostra interpretazione del momento in cui il mondo occidentale ha fatto crack E si è spezzato perché uno degli eredi, il sesto in ordine successione della corona più importante del mondo Non penso che la monarchia del... Del Benin Possa competere Non credo Con la corona britannica È andato... È andato in pezzi Cos'hai pensato di Harry quando è comparso di fianco alla moglie, Meghan La mermaid, come sia quasi autodefinita, ieri parlando della sirenetta con dei toni Di cui Hans Christian Andersen... Per cui Hans Christian Andersen si vergognerebbe, secondo me Io ho pensato che un grande filosofo occidentale l'avrebbe guardato e gli avrebbe detto Non te dovevi sposare, non vi sposate mai, non vi sposate Quando è l'ultima volta che ha parlato? Quando hai detto sì? Avrei, insomma, questa sarebbe stata la frase che meritava Lei l'ha guardato mentre lui ripeteva la recita preparata a memoria Come si guarda il nipote un po' ancora strambo che a Natale dice la poesia E la dice al meglio E lei dice crescerà, ma quando lui crescerà sarà comunque troppo tardi Perché lei avrà già avuto tutto quel che doveva Eh sì, diciamo che forse... Lui è veramente un fasciolo Proprio definizione di fasciolone Che in inglese si dice Mr. Bean Mr. Bean, non a caso Rowan Atkinson aveva già capito tutto Lei è andata a prendersi quello giusto dal suo punto di vista E come tu mi dicevi ieri, occhio perché quando divorziano L'avvocato quando gli arriva la telefonata Hello Hello Mr. Harry Mr. Harry, we have bad news for you Lei si prenderà metà del Commonwealth Lei esatto Lei si prende tutti i Caraibi Tutti i Tonga Tutti quanti quegli stati lì E che dire, a lui che cosa lascerà? Gli lascerà, credo, il rasoio Per rasarsi la sua bella barba da roscio Il 52 pollici Esatto Il 52 pollici La Play 3 per giocare a FIFA 2012 Lo scarabbeo, 50 E credo basta E penso basta Pensa quando lui dovrà tornare in Inghilterra da divorziato Sì, bussare Esatto I'm looking for my grandma Where's grandma? She's still here She's dead now You killed your grandma Questo è quello che gli diranno E poi si chiuderanno Il suo nipote Suo nipote è il piccolo Giorgio Come si chiama? No, no, no Quello è il figlio Giorgio 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 Il quindicenne re di Inghilterra Gli ha Fuck you Sì, però di me sarà diventato un quadro Fuck off What do you fucking What do you mind these bollocks Fucking cook Get the fuck out of here Are you stupid? You're fucking drunk What the fuck did you do when you married that? What do you fucking find her? Diciamo che Anche le persone che erano Molto pro Megan Molto pro Diciamo questa scoperta Hanno scoperto che la regina È un po' conservatrice Esatto Alla fine di tutto Cosa abbiamo scoperto? Che la corona britannica È conservatrice L'avreste mai detto? Eh sì Dopo l'intervista ieri da Oprah Sono rimasti un po' colpiti Sì, beh insomma Sì, mi sembra che comunque Abbiano Peraltro Oprah Hanno collezionato Da ogni parte Rifiuti, no? Cioè non mi sembra Che qualcuno ha solidarizzato con Megan No, un sacco di gente Sì, sì, sì Chi? Chi? Tante donne Soprattutto per la depressione postpartum Che lei ha avuto Ah Vabbè Questo Vabbè Questo è Non c'era bisogno di fare questo casino Ma anche per la questione del razzismo Che giustamente Non è mai bello ricevere il razzismo Dai tabloid Dalle cose Però Questo senz'altro Appunto loro Più che altro rivendicavano il fatto Che hanno perso il grande pezzo di Come dire Di eredità della corona Ah cavolo Certo E la protezione E la protezione E la protezione Sulla questione del razzismo Forse Megan Prima di sposarsi Dove dare una spulciata alle foto Dell'album Del fidanzato E dire che Quando va alle feste di carnevale Lui ci va pesante Detto questo Signora Mermaid Vabbè Ella aveva perso Enjoy Quell'album lì E chissà se A Harry mancherà Sai cosa Più di tutto Secondo me Il polo Ah sì Lo sport che determina Di tutti gli sport Che si possono fare al mondo Lo sport che ti dice Quanto sei stronzo Da uno A Quanto è forte Va il tuo cavallo Ho giocato a polo L'ultima settimana Siamo andati a Monte Carlo Con mio zio Mio zio Che peraltro Anche mio padre Al doppio cognome Infatti Ti presento mamma È una bottiglia di gin Mamma E Tu ti farò questa domanda Caro Edo Hai mai giocato A polo Allora Guarda Una volta dovevo andare Perché c'è A boccea A Roma C'è un campo di polo E dovevamo andare io Facci con sto bronzino Con sto bronzino Te sei presentato Massa e merda Esatto Io sono venuto da A Bardwina Dai ragazzi Amo in ritardo Forza Bibi Subbia Mattia Battistini Però alla fine C'era il campo chiuso Praticamente Peccato Non posso giocare Con la maglia d'immobile Ti dà fastidio Che cazzo Dei problemi c'è Che bello Sai chi è che ha giocato A polo Più volte Nella sua vita Chi Certo Chi se no Quante volte ti è capitato Di trovarti in una situazione In cui qualcuno ha detto Oh l'altra settimana Ho giocato a polo Ma mai nella vita Pensa tipo I bori Che prendono possesso Del polo Iniziano a inventarsi Delle versioni Tipo Riga famo Tedesca De polo Beh I cavalli Truccati Tutti i cavalli Truccati Poi tutto quanto Con la massa Tipo Fanno De spalletta Questo vale meno 10 Fuori Fuori Il cavallo Capito Con il zoccolo Che prende la palletta Vaner gabbiotto Che è dove ti devi mettere Culo Culo a zera Che ci vanno con la funicolare No? La boccea Esatto Però la famosa La sempre promessa funicolare Che è un casino Far entrare il cavallo Poi dentro Esatto Col cavallo si arriva in smart Al campo però Lo metti di fianco E Carmelo Tu hai mai giocato a polo? No 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 ma questa è Già tanto se l'endosso Ovviamente È una Non è poco È una domanda Sciocca e stupida Però quanto lo sport Praticato Determina La persona che sei Un sacco Se sei l'erede Al trono d'Inghilterra Diciamo Giochi a polo Più che a Ping pong In una Difficile Sì 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 O a caccia alla volpe O a caccia alla volpe È uno sport Certo Uno sport Un po' Diciamo Brutto Dal punto di vista Del protagonista Del gioco Sì Però Ma si fa ancora tanto Perché negli anni 90 Era molto osteggiato Poi a un certo punto Beh no Credo che non si faccia più o meno Che veramente tu non sia Il duca di Winsdor E quello ti fai un po' Come cazzo vuoi Fai come vuoi Che era quello che poteva fare Harry Per tutta la vita Cioè passare un'esistenza Cioè passare un'esistenza A rincorrere le volpi Andare in quei principati Capito Oh vedi siamo a Tonga Anche questo è mio Capito Fare beneficenza Così E invece E ha deciso di rinunciare a tutto E ha deciso di rinunciare a tutto Non lo sport seguito Perché lo sport seguito Divide Lo sport praticato Unisce Come proprio il nostro podcast Esatto Che è di inclusione Uno sport di inclusione Pensate che ho questo messaggio A proposito di sport che divide Ecco questo Parleremo solo di calcio In questo momento Esatto Cioè Tambien nesta temporada Você vai a ganare La Liga dos Campeões No próximo anno Per gli amici gioventini Che parlano portoghese Dovrebbe essere un messaggio Molto molto chiaro Ma torniamo a noi Questa mattina Luca Ravenna Camminava circa 25 centimetri da terra C'era una strana levitazione Delle suole Delle sue scarpe Delle Nike Molto molto particolari Perché la Juve Ha Adidas E Allora Lo sport Caro Edoardo Lo sport nella storia Nella storia Lo sport che ha sempre unito Noi sportivi Lo sport I valori Dello sport Intanto tu sei una persona sportiva Ti definiresti così Un rapporto conflittuale Con lo sport Mettiamola così Possiamo dire che a te piace allenarti E meno giocare A me piace allenare In realtà Io sono un grande trainer Sì sì Di quale sport? Di tutti Io sono sempre stato molto bravo A stare fuori dal campo Guardare gli altri giocare Giudicarli E pensare in un altro pianeta Sarei stato più bravo di loro E sentirmi più intelligente di loro Che perdevano tempo A fare qualsiasi sport Questo è il mio atteggiamento Con lo sport E in quali sport Ti sarebbe piaciuto essere Un allenatore Davvero? Guarda Avrei voluto essere Un allenatore No Di calcio Perché comunque Penso sempre Pensa che bello L'allenatore Che sta veramente tranquillo Sì sì Abbiamo Ferrario L'allenatore Dell'Ascoli Che è qui con noi Se avete delle domande Da studio Sono stati fatti degli errori Senz'altro Calpestelli Allora Io quando gioco Con un centroavanti Mi piace schierarlo In maniera offensiva Non amo Sto facendo tipo Grammlo Potrei stare dicendo Qualsiasi cosa E Ferrario Dallo studio Abbiamo Manelli Che vuole farti una domanda Prego Buongiorno Intanto ti saluto Ciao Edoardo Come stai? Ciao Fausto Bene bene Senti Volevo chiederti Allora Quest'idea di giocare Dieci avanti Uno indietro Perché poi di calcio Alla fine Diciamoci la verità Segui e non segui Allora Io In realtà Ma guarda Io Ognuno ha gli schieramenti Che preferisce Quando ho deciso Di fare dieci Tutti quanti Avanti E soltanto Un indietro Io avevo capito Che il portiere Era quello che doveva stare Sempre indietro Per cui La mia formazione È l'1-10 Ok Evitiamo polemiche Mi rifaccio a Zeman Lui 4-3-3 Io 1-10 Non c'è nulla di male L'importante è che si sia in 11 E dare il 110% sempre Allora Ringraziamo tantissimo Ferrario Forse un messaggio Anche per le stelle Come si chiamano Le stelle alpine Le stelle rosse Quelle cose che ti obbligano A sponsorizzare Perché in realtà Con l'occhio sto guardando di là Comprate la stella rossa Esatto La stella rossa Di ben grande Esatto E no Ecco si Sarei stato un grande Allenatore di calcio Poi Che dire No Sempre Io sono Ping pong Mi diverte molto Vorrei saper giocare meglio a tennis Mi insegnerai tu Ti insegnerò Quando vorrai Perché io Gioco molto spesso Vorrei essere molto più bravo Di quello che sono Ma Quanto meno Ce la metto tutte Le mie giornate Si Cambiano in base A quanto bene o male Ho giocato con professionisti Che dai 37 anni in su Gente che arriva tardi Perché era in studio A fare l'avvocato E io Sono lì che gli faccio Ciccio Allora Si paga Però me la paghi Tennis Come Hai detto come Megan Ho rinunciato alla mia carriera Per stare qui oggi A giocare con te a tennis Esattamente Esattamente Quando è che hai capito Che il tennis Era il tuo sport Preferito L'ho capito La prima volta Che ho giocato a tennis Perché io vedevo Mio padre Che giocava Faceva il doppio Della domenica Perché era il momento In cui si mollava Lo squash Mio padre ha giocato A squash A grande squashista No grande Non credo Immagino fosse come Buttare un salame Dentro a una stanza Di squash E lui Rincorreva la pallina Non lo so Però giocava a tennis Io Mi sembrava una cosa bellissima Questo arnese La racchetta Gioco la prima volta A madesimo Nel 95 Indipendenza Perché mi lasciavano andare Da solo al campo E io sul campo da tennis Ho visto Per la prima volta La pussy Perché la maestra Laura Si stagliava nel cielo La maestra Laura Si stava cambiando Non so perché Gli shorts e le mutande In campo Alla panchina E io le ho viste Non ho collegato Che quella Sarebbe stata L'altra grande attrazione Oltre alla pallina E quindi forse Anche per quello Mi sono rimasto colpito Scusa Era una maestra Particolare La maestra Laura Erano gli anni 90 Mrs. Laura Are you trying to seduce me? Io avevo 8 anni E sono arrivato Terzo su tre Al torneo Quello è l'inizio Di una serie Di fallimenti sportivi È tipo Gigi la trottola Al contrario Tu gli hai visto la figa E non hai più saputo giocare Al contrario Dele mutandine bianche Di Gigi la trottola Però è storia vera Infatti ricordo anche Vagamente Dei commenti di mio padre Sulla maestra Laura È un picco Mia mamma si chiama Laura Quindi probabilmente Mi ha detto Bella figa Laura Oh grazie E ti ha Prego E poi ti ha fatto L'occhiolino E poi i momenti Di father and son Che uniscono È vero In primi momenti È vero È bellissimo Lo sport è un momento Father and son Spesso e volentieri È anche un momento Mamma e figlio Mamma e figlia Però spesso e volentieri C'è ma in Italia Father and son Sì Il problema è che Mio padre per esempio Faceva molto canottaggio Ma qui stiamo andando E dov'è che faceva canottaggio Ovviamente Aspetta Te lo dico Liberamente Prendiamo una canoa Entrava sul tevere Il John Smith Andava alla ricerca Della sua Bocontas La ricerca Della sua Bocontas Non proprio Però appunto Nell'ambio dello sport Romano Nell'anni 90 Chiaramente Si faceva nei circoli E quindi lui usciva in barca Ed era bellissimo Per lui Non per me Perché quando poi Hanno provato a farmi fare canottaggio Credo che realisticamente Avrei preferito Fare la caccia alla volpe Sulle rive della niene Intriso d'acqua A cacciare le pantegane Ma tuo papà metteva Uscire in barca A gennaio sul tevere E io lo raccomando A tutti Questo volevo chiederti Se tuo papà metteva I famosi shorts Da canottaggio Eh sì Una grande passione Degli uomini Spero che a noi Non venga mai E quando fai sport Mettere shorts Incredibilmente aderenti Dimenticando Soprattutto quando si va a correre Ti vesti come un evidenziatore E poi c'è questa conchigliona No conchigliona Magari i testicoli Si gonfiano Come dei palloni Aerostatici E il pisello Diventa grande così Non capisci che girare Per Milano O per Roma In questo modo Non fa di te Un uomo più sexy Perché ti stai tenendo in forma Fa di te Un essere umano Maschio Che ha il pisello Che sparisce Quindi coprilo con dei pantaloncini larghi Con scritto Forza Milan Ma le persone perdono Qualsiasi dignità Quando fanno sport Cioè in realtà Se tu appunto Poi vedi l'abbigliamento Cioè anche proprio L'atteggiamento Che hanno nella vita È una roba da squilibrati Cioè quando tu vedi Per esempio A me fanno impazzire Quelli che Sai tipo quando torni a casa Alle tre e mezza No? Dopo una serata Tu vedi uno da solo Che corre per strada E tu pensi Questa persona Nel cervello Che cosa? Sta scappando Non sta correndo No cioè esatto Da se stesso È il profilo Di un serial killer Assolutamente Beh perché se vedi Il 25 mattina Di dicembre Gente che va a correre Esatto Ma dove cazzo vai? Quella roba lì Tu lo fai Tu vai a correre il 25 mattina Io sono una runner Sono orgogliosa Di essere una runner Sono una donna Sono una donna Vado a correre La domenica del 20 Cioè no Una volta l'anno Mi dà l'idea Che tu corri No 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 Io corro sempre E per Natale si corre Per smaltire il cenone Della sera prima Corro sempre Cioè il bello Però vedi Cioè il bello Del Natale È quella sospensione Della realtà In cui magni Come una bestia E poi ricominci Evidentemente Invece a te il 25 Vai a correre Perché mi piace correre Quindi mi fa Esistono queste persone No no Ma lo so Persone ossessionate Fastidiosissime In generale Chi ti racconta A livello amatoriale Me compreso Le proprie imprese sportive È subito La persona più noiosa Del mondo Lo sport rende ossessivi Lo sport è un modo Per sfogare Diciamo La energia Il che è bello Meno Quando aprono le palestre 24 ore Perché ugualmente Anche quando lì tu torni Sei per strada Vedi una vetrina Vedi una persona Alle 4 di mattina Sul tapirulano Così O per uno che fa La machine Alle 4 di mattina Io penso Che quella persona Uscita Andrebbe arrestata Perché ha un profilo Socialmente pericoloso Io odio le palestre Odio il luogo palestra In generale Ma perché? Ma le amo Per lo spettacolo Perché ti piace sentire Le urla delle persone Che fanno cose Ti piace vedere gente Che si mostra Sessualmente Ad altre persone Questo meno No mi piace Diciamo il clima Cameratesco Della palestra Al quale io non appartengo Minimamente Perché mi fa cagare Però io vado come spettatore In realtà adesso Purtroppo sono tutte chiuse Non si possono frequentare Ho scoperto diciamo Allenamenti all'aria aperta Che sono belli ugualmente Però lo spettacolo Della palestra Tutta quella tensione Che c'è capito La segretaria fregna Quello che arriva Si fa vedere Ciao 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 Tu sei Scusa Dopo un anno Che pari Esatto Sono l'unico milanese Che entra in questa palestra È impossibile Che tu non sappia Per cortesia Ti puoi tenere sui lati Non puoi stare tanto Al centro della palestra Perché ci sono Delle persone romane Aggressive Che ti bullizzeranno Ti posso chiedere Se per il bonifico Tu hai già fatto Già fatto Sì guarda Ho fatto subito Una tranche unica Bravo Allora Per cortesia No è veramente Però lo spettacolo Scusami Ci possiamo alternare Capito Cioè a me Quella ritualità Mi fa Mi dà No no Mi dà proprio Dei punti È un punto di riferimento Sudare di fianco A persone sudate Che vogliono far vedere Quanto sono sudate Poi è bellissimo Quando vedi Quelle persone in palestra Che io ovviamente Sono estremamente discontinuo Vado poco Però Tutte le volte che vado Loro sono sempre lì Certo Il mercoledì mattina Alle 8 Gioedì sera Alle 9 Alle 9 e mezza Domenica mattina Loro sono sempre lì Capisce La gente che vive In palestra E non ha altro Nella vita Ed è bellissimo Però vedere Tutta quell'energia Sai chi ha Che ha fatto parte Di quel mondo Per anni Poi ha smesso No tu sei mandato Che sport hai praticato Teher Se ti chiedo questa Oddio I classici Nuoto Calcio Poi ha fatto Poco Tennis E poi L'ultimo Vero sport di gruppo Stavo palla a volo Palla a volo In che ruolo giocavi Giocavo Alzatore Alzatore Ah il regista Della squadra Avevi il pannetto Dietro per asciugarti Le mani Quando sudavano Ma giocavi Con i bling bling Addosso Purtroppo ancora no Per acercare Lui saltava Gli collane nell'occhio Però su questa La palestra Io ad agosto Quando ho detto Mi voglio mettere Un po' in forma Ho detto Ok tocca fare palestra Io me la so fatta a casa Perché odio la gente Quindi si è messo Ad alzare i tuoi gioielli Quello è lo sport Che faccio ancora adesso Hai comprato la kettlebell Da 6 Da 8 Da 12 Da 32 Ho preso la pirulana Una cicletta Manubri Ma come è andato St'allenamento Andavo di Cristo Fino tipo Fine dicembre Ho perso 30 kg Poi ho preso Quel cazzo di cane E ho smesso di allenarti E che tosa Hai mangiato Esattamente Quando hai iniziato A lavorare con noi Quindi siamo noi Siamo noi Un po' di responsabili C'è sempre spazio Per allenarsi E fa tanto bene Lo sport È una grande soluzione A tantissimi problemi mentali Carmelo Hai sfogato le tue turbe Con lo sport Nella vita Mai A me viene l'acido lattico Anche se mi taglio le unghie Dei piedi Va bene Quindi niente Che sport hai praticato Nella vita Beh da bambino Penso che mi abbiano iscritto A tutti gli sport Ma dopo la prima volta Già avevo capito Che non faceva per me Che non faceva per te Vedi Hai anche tu avuto Sempre più un'attitudine Per l'arte Mi sembra di capire Sì no Non faceva per me Perché ero troppo bravo Ah ok Non ho capito Ma ti hanno mai chiesto Ti hanno mai imposto I tuoi genitori Di fare Per ricollegarci A Harry e Meghan Uno sport Per fare un salto sociale Beh no Questo non è mai successo Dico la verità Cioè io ho avuto Un'educazione Ho fatto tutti gli sport Da bambino Che era la tipica Educazione siberiana Balduinese Cioè comunque Farli provare tutti In modo che poi Sceglierai il suo Io ero pessimo In tutti E alla fine Ho mollato Completamente Ho riscoperto Diciamo lo sport Verso i 30 anni Tu invece ti ha Ti hanno fatto fare Un passaggio in società Si è provato A fare All'estate del 2000 A 13 anni Mio padre ha detto Devi giocare a golf Va bene Devi andare a giocare a golf Va bene Ed era l'estate Delle pippe Quindi io Qualsiasi sport facessi Ci arrivavo sgonfio Alla sesta pippa Alle tre di pomeriggio Rivevo vai Pronti a croare Al golf Con questo piacentino Scopatore Insegnante di golf Che stava lì A rubare soldi Alle famiglie Che mandavano I loro giovani Stupidi rampolli Al terzo A terzo L'altro Pronto colpire Mi ho guardato E ho detto E allora Tenso e buono No L'unica mazza Che mi piace Tenere in mano È la mia E me ne sono andato così E golf E poi vabbè E lì la famiglia Ravenna È entrata in rovina In realtà Tu eri tipo arci Eri l'unico che poteva Veramente alzare Le sorti da famiglia Ma grazie a Dio Si è puntato sul mio fratello Facendogli fare equitazione Mio fratello ha fatto Dieci lezioni Poi il cavallo nocciola Un baio Di 200 tonnellate Gli ha tirato Una zoccolata sul piede Io ricordo il ritorno Di mio fratello Beh brutto se L'arnese che tu usi Per lo sport Si rivolta Si rivolta Contro di te Con la banca piana Questo non succede La banca piana Ti è sempre fedele Però quello ricordo Come lo sport Io li ho provati Quasi tutti da piccolo Non ero molto bravo Ma ero molto competitivo Purtroppo queste due cose Cozzano terribilmente Beh sì Perché poi è solo frustrazione Solo frustrazione Perché se sei competitivo Non sei bravo è una merda Esattamente Ma invece io ero Zero competitivo negli sport Mi facevano cacare tutti Ed ero sempre Molto più interessato All'intrattenimento Per cui ero In squadra Quello che era una sega Però ti facevo ridere tutti Dicendo cazzate Ed ero motivo Per cui poi alla fine Ho fatto un po' di sport Nella vita Però ero rigorosamente Quello che a calcio Veniva messo in porta Sempre Non lo sceglieva nessuno Anche se la mia carriera Calcistica Io giocavo al circolo massimi Alla balduina All'epoca E io ero Sono sempre stato Una sega a calcio Ma una sega Cioè veramente Tipo questa persona Ha una menomazione fisica Non è possibile Che sia così tanto Ti conosco da quasi dieci anni Non ti ho mai visto Neanche stoppare Un pezzo di carta Arrotolato Ma se io prendo Una palla in mano Diventa quadrata Cioè tipo è Una cosa di negatività Io La mia carriera calcistica Si è consumata Con un solo tiro che feci Cioè una storica partita A calcetto al massimi Io vengo messo in mano Per qualche ragione Non ero in porta Giocavo come attaccante Mi arriva questa palla La stoppo Faccio un tiro Cioè Cristiano Ronaldo Cioè la metto sotto il sette Il gol più bello Si ferma la squadra Mi guardano tutti Cioè è stato un momento Nessuno si capacitava Di come fossi riuscito A fare quel gol Ti ricordi come hai esultato? È stata tipo Una botta Talmente grande Perché non avevo mai avuto Una soddisfazione Così tanto grande In uno sport Si erano fermati tutti Cioè mi hanno guardato L'allenatore Tutti quanti E quando sono andato La partita è finita Non mi ricordo neanche come Quando è andata via Tipo mi hanno fatto Oh Bravo 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 Dici per sé Ed ero E la mia carriera E lì è finita Perché avevo dato tutto Avendo Io al calcio Avevo dato tutto Non potevo andare meglio Ho smesso di giocare Sport Ti faccio la domanda La partita successiva Quanta aspettativa avevi Sul tuo destro magico Ma neanche la ricordo Perché c'è Dopo una roba del genere È inutile Ho proprio appeso Gli scarpini al chiodo Ho fatto Signori Ma noi stiamo parlando Dello sport Il grande sport maschile Che è spesso I ragazzini Si fa fare tanto sport Ma quando Soprattutto si faceva nuoto Sì Che era lo sport Di solito si fa con le ragazzine Anche Entravi in contatto Con il sesso femminile E noi Esatto Vogliamo chiedere Qual è lo sport Che si fa fare Come primo sport Alle ragazze Beh no C'è la Ginnastica artistica Io ho fatto Come primo sport E vi farei vedere Il filmino Del mio saggio Perché è molto divertente Ci andavo pure Tipo una volta Ogni tre mesi Perché mi faceva schifo Ah Io stessa cosa Credo che i miei fratelli E mio padre Ancora si ricordino I saggi Mamma mia Che inferno Due fratelli Due fratelli maschi Più grandi A vedere la piccola Rotiente Cecilia Che fa le spaccate in aria Quello è Io facevo sia artistica che ritmica Quindi saggio del giovedì a maggio Madonna di Dio E poi un anno Poi pizzata Mia madre ha avuto un'ottima idea Ovvero quella di iscrivermi con la mia migliore amica A nuoto sincronizzato I saggi di nuoto sincronizzato Delle bambine Ma poi delle bambine Ancora più noiosi Sì forse Perché già non vedi un cazzo Perché è tutto sott'acqua E in più sott'acqua Non ci sono E quindi si vede una gamba in su Gamba in su E non dimentichiamo I saggi di danza Delle amiche Perché c'erano queste maratone Di 24 ore Nei teatri Tipo al Metropolitan A Catania Certo Certo Sì 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 Tutti i teatri delle parrocchie Generalmente Al teatro greco Che rottura di Io non credo esista Per un genitore Una cosa più Grande C'è una Che ho iscritto Mio figlio Mia figlia A suonare Suonare uno strumento E ti devi sparare Tutti i pezzi Spling Splang E poi suona Tuo figlio Tuo figlio Sembra audio leso Perché dici Ma cazzo Ma io ho speso Due milioni e mezzo di lire Per far suonare Questo deficiente Abbiamo affittato Il pianoforte Yamaha Avviene Cinquecentomila lire al mese Secondo me quello è brutto Però vabbè Comunque anche la soddisfazione Poi quando ci sono anche Ragazzi e ragazze portati E poi salgono E crescono con lo sport Sì no lo so Lo so Però qual è Scusa Qual è la ginnastica Ritmica Che vuol dire Quella cosa lì Che cosa È una ginnastica artistica In più È il ritmo È per fare No È praticamente Un filo Che tu hai Un pezzo di stoffa Che fai volteggiare Sobredite Collegato A un complesso Di edipo Se sei un maschio O a quello Delle donne Di elettro Di elettro E vedo Carmelo Anche tu facevi Ginnastica ritmica Carmelo Sì sì come no Però vedevo Ilari Il cartone animato Con i peli che ti uscivano Da sotto al body Carina quella ragazzina Bella italiana Mi racconto una cosa È di giù C'ho un amico Divertentissimo Che voleva fare pianoforte Ma ha capito Di non avere la disciplina E quindi ha fatto Dieci anni di kung fu Prima di scriversi A pianoforte Perché mi serviva Ve lo giuro Ve lo presento Un giorno Adriano Ma arti marziali Beh c'è un importante momento Quando vieni iscritto Ad arti marziali Io ho fatto judo In prima elementare Ho fatto il torneo Di judo finale Il grande momento Di combattimento Ed è venuta Quella che allora Era mia moglie Perché c'eravamo sposati Con Rito Pagano C'è con Rito Pagano La mia fidanzatina Elisabetta Rocca Che saluto Che ci aveva sposati Sua madre Lei aveva le scarpe Nella madre Viene lei con la famiglia A vedere il saggio di judo Il combattimento finale Sai quanto è durato Il mio combattimento Il ragazzino Mi ha preso Mi ha sbattuto a terra E io ho detto Vabbè Seconda match Fuori Finito Tutti con la medaglia Tutti Luca Ravenna Con una targhetta Tricolore Cioè uno dice Poi perché Davanti alla famiglia Davanti alla famiglia Rocca Umiliato Mio padre Dispiaciuto Ma mi hanno dato Comunque la cintura gialla Che mia madre Tiene ancora Però è una roba Da gattopardo Questa Molto bella Cioè proprio Eliminato Dalla stirpe Ma la mia vita sportiva È stata tutta così Tutta grandi aspettative Solo mie E poi grandi delusione Tu hai fatto Arti marziali Mai Difido molto Dei genitori Che sono fissati Con le arti marziali Per il figlio Perché ci sono Questi padri Che hanno visto Kenshiro Quindi questo mio figlio Deve diventare Un guerriero E quindi Ti faccio fare Jiu Jitsu Mischiato Con la capoeira Sono d'accordo Molto d'accordo Con te Però le arti marziali Soprattutto all'inizio Ti aiutano A imparare a cadere Che sembra una cazzata Ma se Da piccolo Non sai cadere Cosa è possibile Mio fratello Si ha rotto i denti Trenta volte Le pinne con l'SH Come Peter Griffin Cadi così Boom Finché non impari a farlo Peraltro Tutte quelle arti marziali Adesso mi fanno impazzire Quelle che sono Sono mix No? Perché comunque C'è il Jiu Jitsu Capoeira mixata Ai balli umbri Capito? Il Mai Tai Il Tai Chi Che incontra Le bestemmie marchigiane Cioè C'è quella cosa lì T'è Un Tai Chi Che però Fai di Di Umani Quelle sono Pazzesche Non c'è limite Poi alla fantasia No no Certo Se puoi mischiare Tutte insieme Ma Leggo qui Non lo sapevo Tu hai fatto Palla nuoto? Si Bello Tu hai fatto pallanuato come io ho fatto danza Ecco, ho capito Come Bud Spencer Però tu eri Terence Hill Esatto, ero Terence Hill Per quanti anni hai fatto pallanuato? Per almeno due o tre anni Ma in che ruolo giocavi Edoardo? Indovina Portiere Che comunque portiere a pallanuato è non difficile Difficilissimo perché è l'arte del colpo di reni Proprio così Non era facile, era difficile Detto il colabrodo E io lì, anche lì Io non so perché feci pallanuato Perché poi Nella pallanuato La pallanuato è tutta quanto così Immagina il pallanuato fuori dall'acqua Immagino te che la fai Sembrano il pupazzo confiabile Che si confia come uno sceo L'allenatore che diceva speriamo che Ferrari Stavolta li fa ridere, li distraga Era una cosa ridicola quanto non ero bravo a pallanuato Ma era tipo oltre le possibilità No, prima messo in porta se non c'è un ruolo cruciale Comunque è molto più che a calcio Ma molto più Cioè meno gente No, si tira di continuo Poi si tira di continuo E quindi era una roba ridicola E quando tornavi a casa tuo padre ti dice Com'è andata Edoardo a pallanuato oggi? Io mi chiudevo in camera e suonavo Hello Silence my old friend No, quello Poi, allora Il nuoto poi è tutto un mondo Perché il nuoto tu hai Allora, a me il nuoto mi mette una tristezza terribile Ma perché io, la piscina è un ambiente che io soffro A me piace tantissimo Che cazzo ti piace? A me piace andare in piscina, nuotare da solo Andavo, non vado più da anni E mi piace fare 60 vaschi E mi piace a un certo punto essere Convincermi che uno squalo mi sta inseguendo E ne ho parlato Ognuno dei suoi problemi Ne ho parlato anche con la terapeuta Un giorno ho detto Ma forse lo squalo sono io Lei mi ha guardato Bene, sono passati 50 minuti Ci vediamo la prossima settimana Tu non hai mai avuto paura Che uno squalo ti azzannasse in acqua? In piscina? Sì Onestamente no Secondo me è una paura Che alcune persone Io ho un mega aneddoto sulla piscina La prima persona Che è stata la mia istruttrice A scuola nuoto È stata arrestata Perché era una pazza psicopatica Che prendeva questi bambini di 4-5 anni E li lanciava in piscina Io infatti sono stato terrorizzato Dalla piscina per tipo 7 anni Dai 5 anni in poi Perché non volevo più andarci Avevo rischiato di morire 3 volte Ma arrestata c'è a un certo punto Durante il corso della rana azzurra Non quando io già me ne ero andata Perché io ho tipo detto a mia madre Piangendo, correndo Alla terza lezione Aiuto Non voglio più andarci E si è venuto a sapere Dopo un anno E questa era stata arrestata Per una cosa simile Che ha sempre fatto Poi a Roma 3 A Roma 3? Cioè? A Roma 3 c'ha C'ha pure la piscina C'ha pure la piscina e tutto Dove ci facevano le lezioni per i bambini No io allora Usano lo stesso approccio giurisprudenza Roma 3 Ti prendono e ti spattano davanti Diretto amministrativo 2 Ti buttano Che è come io Ho passato tutti gli esami Infatti prendono solo 18 No io A me non mi piace la piscina Perché entri in queste piscine Questi spoglietoi anni 70 Con l'armadietto un po' arrugginito Odore di verruche Madonna di Dio C'è l'odore delle verruche C'è il suono vattato Che viene dal pallone Quindi tipo apri Senti questo caldo che arriva Però ti passa subito Subito freddissimo Fai la doccia prima fredda Ti butti nell'acqua gelata La sensazione che io provo Quando esco da una piscina Tipo a gennaio L'inverno Sei entrato Che c'era il sole Escere 5 è buio Bellissimo Capelli umidi Esci fuori Magari piove Io vado al ponte Sul Tevere E mi butto Con una sercio al collo Però riparti a stile libero La grande E nella pallanuoto Hai tutto questo Con in più Le strizzate di coglioni Sotto l'acqua Perché un mio amico Invece pallanuotista Davvero Giorgio Che saluto E per tanti anni A giocare al pallanuoto Mi raccontava Che è norma Che sott'acqua Ti strizzino i coglioni Fortissimo Gli avversari Sport molto duro Perché è l'unico modo per annullarti La pallanuoto E sport molto duro Per cui lo stavo in porta E per quell'oggi Non sono nel coro Delle voci bianche Del Vaticano E ho passato Una vita felice Dillo a un pallanuotista Sai conto Sono grossi Quelli che poi continuano Perché c'è un momento In cui smetti Tu e loro continuano E poi Ma com'è che scopa Così tanto Pietro E ha introdotto Uno dei momenti Uno dei luoghi Secondo me Dei momenti Che diventano luoghi Più importanti Nella crescita Di un ragazzo Ma anche di una ragazza Ossia Lo spogliatoio Quando è che Lo spogliatoio È cambiato Perché di solito In piscina Veniva la mamma Che ti asciugava Odiandoti Così E poi Cresci Lo spogliatoio Diventa un luogo Dove inizi a sentire Odori vomitevoli Odore vergognoso Però vedi anche All'improvviso Gente della tua età Che ha questi Cazzi enormi Ma quando me lo montano A me Mamma Quando mi porti A fare l'aggiornamento Cavolo È veramente grosso Poi che odore di Axe Ma quanto ne mettete Mamma mia L'axe Axe Il baledas Due in uno Shampoo e balsamo Ottimo Mamma mia Che profumo Stornino Negli spogliatoi maschili A seconda di Ovviamente cambia Con lo sport Cambia con l'età Però diciamo Sì c'è un po' Di cameratismo Meglio non essere Quello che viene Bullizzato Indefinito Cioè l'ultimo Della catena A me è successo Anche quello E ti forma molto Però sono divertenti Ma lo spogliatoio Femminile Come funziona? Deve essere L'inferno in terra Allora intanto Io a proposito Di arti marziali Sono cintura marrone Di karate Shotokan E quindi Ho praticato Tanto karate Shotokan Ed ero molto entusiasta E come Edoardo Ho vinto Una medaglia Una coppa enorme Per caso Sono detto Prima Una competizione A caso Quindi io ho lasciato Il karate A 14 anni Perché col ciclo E lo sviluppo Diventi una donna Circondata da questi Adolescenti Brufolosi Sessualmente Molto vivaci Certo vivaci E quindi ho dovuto Abbandonare Il bullismo Che mi facevano Mi sto molesti E tipo Mi aprivano Il karate Mi palpavano Quindi basta Vado a giocare A palla a volo E scopro Che lo spogliatoio Femminile Della palla a volo È molto peggio Di quello Degli uomini Che fanno karate Quindi in realtà Lo spogliatoio femminile Per me è stato Un trauma enorme Cosa succede Negli spogliatoi femminili Di cosa si parla? No per me Devo dire invece Non ho ricordi Traumatici Tutte bambine carine Poi vedevi Non lo so Non lo so C'ho i ricordi Delle prime Gerarchie Ah certo Cioè Entri che sei piccola E magari c'è quella più grande Che è più figa Proprio bulletta Esatto Mi è voluto in me Una ragazza di palla a volo Mi disse Ma perché sei così alta I tuoi genitori Ti danno gli ormoni? Cioè No Che cos'eravamo Nell'URSS Negli anni 70 In uno spogliatoio maschile Nessuno direbbe Ma perché sei così alto Oh lui è veramente un grande Guarda com'è alfo Esatto Io sono bassissimo E diventi il suo valvasore Esatto Però Io mi sento di dire una cosa Sulla spogliatoio maschile Che in realtà Quanto si scopa bene È che lo spogliatoio maschile È in realtà una bomba È semplicemente che ci stanno 21 persone 20 se la godono Quella persona È quello che è Se la vive male Ma eri tu No io me la so sempre con tua Quindi se voi avete Un brutto ricordo Io ci sono strapassato E fu l'estate del 99 Io dopo anni di campi estivi A tennis Nel 99 decido Che devo giocare a calcio E devo E io giuro su Dio Di aver detto a mia madre Ricordo esattamente Dove ero Mamma Devo capire Se ancora ce la posso fare Era belli questi momenti Di autocoscienza Mia madre Che tanto ero Ero una scusa Per litigare con mio padre Ha detto Ma fai come cazzo vuoi Mi hanno mandato in Val d'Aosta Al goal camp Di Giosel Tafini E c'era Per la prima volta Da undicenne Conoscevo ragazzi maschi Solo maschi Non c'erano donne E lì ho detto Ah che errore di valutazione Vedi abbiamo sbagliato Solo maschi Da tutta Italia Tutti i ragazzi Che giocavano a calcio Un mondo con cui Non mi ero mai confrontato Veramente E minchia Quanto bullismo Che ho subito Eh beh ma certo Mangiavo solo ghiaccioli Ricordo che ho aspettato Il mio padre Una merda Così Accarezzandoti i ricci Sì Bruttissimo Bruttissimo Ma pensa che su un pulmino Andando a vedere La finale di campionato italiano Di calcio a 5 Io ero seduto E vedevo dietro di me Due che ridevano Continuano a ridere Dicevo ragazzi Ma cos'è che ridete Cos'è che ci stiamo divertendo Un sacco Ridiamo di te Brutta merda Magari quello Mi stavano Mi stavano Con una bandierina Che si usava allo stadio Una bandierina Lo stecchetto di legno Loro sputandone Lo stecchetto Mi stavano Sputando Saliva Questo è un po' Greve È finita la cosa Mi hanno dato delle pacchette Dentro alla piscinetta Di saliva Una medusa in testa Mi è esploso il cuore Dal dolore E io Certo Mamma mia Noi prendiamo solo in giro Quello col pene più piccolo Però Questa è una cosa Che purtroppo Non mi è mai successo Però Questa roba Ci sarebbe voluta All'Ugo Ravenna Questa roba Di sputare No vabbè Anche quello Sarebbe stato troppo Ma siccome Avevo Una verruchina qua Come avevo appena tolto Non potevo fare la doccia Con gli altri Perché? E questa è perché Avevo degli impacchi Non potevo Avevo la cicatrice Ok 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 E questo però Mi ha aiutato molto Spogliato Cioè io ero un nano Mi sputavano addosso E in più sono dovuto Anche andare No ma io la doccia La faccio lì là La faccio casa Tutti i ragazzi Vai vai Ti rispettiamo Per questo Gira pure l'angolo Non diremo niente Vai pure Non diremo niente di te In realtà Tutte queste cose Sono solo nella tua testa Nessuno che fa il bullo Così Dà così tanto peso Alla tua persona Però ti forma Il carattere Ti formano molto Allora io in realtà Quella fase lì Avendo fatto pochissimi Sport di squadra L'ho un po' saltata Ho apprezzato moltissimo Gli spogliatoi In fase più adulta Nella quale sei più tranquillo Quindi ti ricordi meglio Osservi meglio Quello che succede Poi crescendo Siamo un po' Questo signore vecchio Che dopo una lezione Si era fatto la doccia Si stava asciugando Le pudenda Con il phon Certo Che poi tu ovviamente Te lo rimetti in testa Bello bello Lo usi In tutte le palestre C'è di questo Quindi si asciugava Sto coso Il signore Dei 75 anni Con sto phon Così arriva Il trainer Della palestra Che lo guarda E gli fa Mario Non mi piace Quello che sto vedendo E Mario risponde Anzi che hai visto Qualche cosa E lì Vedi il bello Cioè lo spogliatoio Quando sei più sereno Da grande Te lo godi Perché ci sono questi momenti Beh senti parlare Di malattie Da uomini più anziani Tennisti medici Che si confrontano Guarda Sono stato a farmi controllare Tutto a posto Ma Stoneo Te che dici? Eh sì Però quello è la vita Poi cambia molto Di città in città Cioè Milano Ho sentito veramente Alla virgine Ho sentito delle persone Madonna di Dio In ritardo Definiamole così Sulla vita Nel senso che Cioè Figa cazzo Ma l'hai vista Sì l'ho vista Tu sei omosessuale Da come parla Ma l'hai vista A Roma C'è un po' la tendenza Quando si sta in spogliatoio A farti notare Il cazzo Cioè Appena appena Esatto Cioè gente che ti parla Mettendo la gamba Esatto Le palle in faccia Cioè tu sei la testa Somma sta Roma che dici Te che sei da Milano Guarda Tutto bene Toglimi il tuo glande dall'occhio Perché vorrei Battere le ciglia Ogni tanto Grazie Sì è incredibile Eh vabbè però Quella è la protervia romana E poi lì senti Quei dischi Come quelli che sentivi Da i senatori romani Ah Quei in sauna Quei lì in sauna Che proprio si parla Da gossa Organizziamo Famo Famo Non te preoccupare Ma al tele Mi hai mangiato il polpo Alla picchia E sentire parlare di polpo Sembra il cattivo Dei biker mai Sì Porpa Picchia Poi lo fanno Guarda C'è sta Virgoletto Un po' Sostraordinario E Non di rado Ho sentito anche Che in sauna Esatto Hai il suo perché Spicy We have the spicy sauna We have you know People that fart In the sauna Devi sentirti Un po' Sicuro di te Per fare queste cose Sì Certo Io ho sentito Che nelle squadre di rugby Nei pullman Delle trasferte Ai ragazzini Ai più deboli Si fa questa cosa Che si chiama La salata Cioè tipo Che ti spogliano E ti riempiono Le mutande di sale Ed è Io non ho capito Se è una cosa Che si fa a Catania Tipo tra i rugby Oppure se suole Nelle A Roma Nella salata Ci mettiamo un po' Di pecorino Anche Credo che a Catania Ci mettete l'uvetta No se non mi sbaglio No non l'ho mai sentita Questa roba qui Della salata No neanche io Però sono Probabilmente ogni città Ogni spogliatoio Scusa questo A chi fa rugby Io sapevo Sì mi avevano raccontato Nei pullman del rugby Si sceglie il più piccolo Il più Più sfigato E si fa questa cosa Magari a Catania Però Io penso che ogni Sport Ogni spogliatoio Ogni Abbia il suo rito Abbia i suoi modi E abbia Ma chissà com'era Nella storia Facciamo un salto indietro Nel mondo dello sport Perché vabbè Nasce ovviamente Vabbè no Sport è sempre fatto Però è con la Grecia Che con le Olimpiadi Viene nobilitato No? E si è C'era tutto il valore Si è deciso di fare Queste gare Tutti oliati Nudi E si corre Da Atene Guarda Si fa la consa Questi atleti Esatto Che sono nudi E tutti quanti oliati L'importante è che siano nudi E pensa che lì Adesso Uno c'è fotografia Bordocampi Che poi ritraevano sui vasi Di coccio Questi atleti Però era uno dei pochi agganci Che aveva la professoressa O la maestra di storia Per tenerti incollato Perché allora si faceva sport E ti riprendevi all'improvviso Sport? No io dormivo Non era una cosa che mi ricordava Ci sono state epoche In cui lo sport Era un po' più tipo Nel Medioevo Fare sport Ho partecipato a un torneo Sì di cosa? Di pallacorda? No Di Essere un campione in quello Deve essere figo Non so neanche come si chiama La giostra Non lo so Non lo so Come si chiama quella cosa Quel correre Con l'assi Con il Taratata Per me è quello Taratata È l'unico suono che riesco a scegliere La giostra La giostra Perché ha lasciato Poi ci sono delle regioni del mondo Che i tornei medievali Diciamo Non si sono staccati Ci sono rimasti Ci sono rimasti un po' E non la contrada Dell'Istrisce Quelle merde Della contrada Della tartaruga A me affascina moltissimo La storia E la leggenda Del Palli di Siena Mi colpiscono anche i pali minori Ah certo Cioè quelli che si fanno Tipo con gli asini Sì In barbagia Quelle cose matte Sì sì Bellissimo Bellissimo Eh vabbè Ma è bello Perché poi appunto Riflette Le tradizioni culturali Di ciascuna regione d'Italia Ciò che in Sardegna Si fa una roba assurda Cioè La Sardegnata No Si chiama Sardegna 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 Una roba tipo Una corsa Con i cavalli Che poi alla fine ti ammazzi Tipo questo è il senso Della cosa E vabbè Poi ci furono Le famose olimpiadi Quelle che vennero fatte Sotto Hitler Lavoro top Dal punto di vista Dei media Perché fu una raccontata Marketing totale Grande Lenny Riefenstahl Penso sia Il nome esatto Della regista Che girò E lo straordinario documentario Di quelli là E Piccolo problema Tecnico tattico La superstar Di quell'olimpiade Era dello stesso Colore Di Meghan Markle E Adolf Hitler A differenza Della regina Inghilterra L'ha presa Un po' più Sul personale E qui volevo citare Un pezzo straordinario Di Francesco De Carlo Che raccontava Chissà com'è stato Il viaggio in macchina Del ritorno Dall'Olimpia Stadion Di Berlino A casa Fra Adolf Hitler E la moglie Quando lei gli ha detto Beh è forte quel Jesse Owens Non mi devi parlare Ti dico non parlarmi Sono nervoso E lo sai E non mi ricordo Se era esattamente così Mi aveva fatto molto ridere Ciao Francesco Comunque vabbè Noi in realtà Si potrebbero anche Raggruppare gli sport Per delle grandi Ci sarà stato uno sport In cui hai detto Forse davvero Ce l'avrei potuta fare Al di là di quel gol Al di là di quel ping pong C'è stato uno sport In cui hai detto Cazzo Beh guarda In realtà il tennis Perché io ero bravino Bravino Quando mi mandarono in vacanza Un'estate a Montelivata Due settimane Bravo Due settimane C'era la serata disco C'era la serata disco C'erano quelli che Arrivati alla prima domenica Si mettevano a piangere I genitori Li tornavano a prendere E anche loro Non erano affatto bollati Per tutta la vita Come soggetti deboli E ti arrivava la chiamata Quando stavi a pranzo A cena A un certo punto Facevano Ferrario Il telefono Sì che bellissimo Ma forse già eravamo In un'epoca di Nokia 3210 Alcuni sì Alcuni no No boh Sono andato tipo a 13 anni Sì si spoteva qualcuno No che cazzo dico No 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 Fine elementari andava Non è possibile No 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 C'era Ferrario al telefono E tu andavi Pronto No show Facevi anche un po' il bulletto Però quando ti salirà Quando ti scenderà la voce Di due ottave Potrai fare il bullo Non prima Però ecco Mi ricordo che Ero lì Peraltro poi appunto Anche io sbagliai tutto Perché due settimane A fare solo sport E soltanto è arrivato lì Capi Quello che comunque E io ero tipo bravo A fare gli sport E sei tipo Orienteering Sì sì Nascondevi la bandiera Dovevi trovare la cosa Perché era una roba Beh tiro Tiro con l'arco c'era Tiro con l'arco esatto Quando poi Alla fine delle due settimane Il giocatore Diciamo Il mio amico Con cui ero partito Con il quale insieme suonavamo Perché poi lo feci anche più avanti Effettivamente Era Sì forse era poi A cavallo elementari e medie Venne nominato Il più bravo giocatore Di tennis Di Montelivata L'irrosicai tanto Perché io pensai Ma come Eravamo delle seghe Tutte e due Quando hai trovato il tempo Di diventare bravissimo A tennis Mentre E quindi è Mentre tu eri nel bosco Per di qua ragazzi Seguitemi Per di qua Ho sentito uno scogliattolo Guardate questo sasso Se lo giri Sembra una tartaruga E lui venne nominato Il più grande giocatore Mamma mamma Fu campione Di Orient Eering Domani mi daranno Una buffola Esatto E mio padre Tipo capito Che sentiva la telefonata E' quello Però guarda Di tennis Mi riprometto di diventare bravo Mi riprometto di diventare bravo Ci ho provato Ho fatto anche agonistica Da piccolo Ho vissuto Il dramma Di proprio Non reggere psicologicamente A livello un po' serio A questo sport Mi sono anche confrontato Io ho un grande amico Che è molto forte Purtroppo Hai un amico Che è forte In tutti gli sport Quei grandi Ma forte Forte è vero C'è proprio dotati Persone dotate Sì sì Vabbè C'era ciascuno di noi Quei grandissimi figli di Troia Esattamente Che gli viene facile Qualsiasi cosa Qualsiasi sport Qualsiasi cosa fanno Un saluto all'amico Glenn Che purtroppo È molto forte in tutti Ma tutto Basket Tiro con l'arco Salto in alto Tutto Tu dici porca Cioè in uno Non sarai capace Invece Io mi esaltavo Per qualsiasi cosa Che riuscivo a fare Un po' bene Perché andavo a scuola Te ho detto Sperimentale Con ragazzi con handicap Sì E io ho battuto Sara Licari Che aveva un handicap Che non era un problema Per il salto in alto Cioè era sordomuta L'avevo battuto Io ho saltato 1 e 10 Lei 1 e 0 5 E tutti No io ho vinto Ho vinto perché Quelli forti Erano tutti andati A fare una gara Quindi eravamo tipo in 12 Ah sì E avendo battuto Sara Io sono andato a letto Quella sera A occhi sbarrati Ho detto Per le olimpiadi di Atene 2004 Sei pronto Io ci sono Purtroppo E lo so ma guarda che la botta Che ti dà gli sport La vittoria Che è una cosa Che assaporì raramente Senti invece Guarda Ti voglio parlare di questa cosa Spero di La barca vela Bello È uno sport O è uno stile di vita Se si può ancora dire Se si può ancora dire Se non offendiamo Qualche fascista Guarda Io stimo i velisti Come stimo i commercialisti Cioè fanno una roba Che io penso Non so come cazzo Hai voglia di fare Tutto questo Però la loro professionalità Mi emoziona Io odio i velisti Che quando si trovano Fra di loro Anche sulla terraferma Fanno di tutto Per escludere le persone Che non parlano la lingua Sono una setta Sono una setta Malefica Che poi a un certo punto Comprano la barca Fra di loro Si fomentano Fanno una roba Sì si raccontano Di manovre Che tu non puoi capire Con la roba lì No e poi anche Quando invece Magari ti capita Di andare in vacanza In barca vela E hai lo skipper Che ti fa giocare Come se fossi un bambino Come quando ti guardano Sul pony praticamente Vai libera la bianca Clu clun E si libera E cade il vol Libera Clu clun E tu ti senti soldini Sei pronto Per andare su luna rossa Devi capire il tuo ruolo Io ho fatto dei viaggi In barca vela Ho capito che il mio ruolo Era la cucina E poi il simpatico La sera Eh lo so Ma infatti Io per esempio In barca vela C'è una cosa Che so fare benissimo Che è mangiare la pasta Alle bombole Sono troppo bravo Cioè quello E il boma Le ragazze piacciono I velisti Poi adesso Non è che voi siete La giuria Demoscopica No infatti Come dice Amadeus Come dice Amadeus Non ho mai avuto La fascinazione del velista Li trovo Ossessionati da qualcosa E quindi Un po' noiosi Con quell'orabbigliamento Che te lo devono sempre Fare un po' pesare Io ho provato a fare vela Sono stata A ventotene Due settimane Mandata dai miei Dimitori Con la mia migliore amica E ovviamente Ho ricordi Di quella vacanza Per la parte serale La discoteca Le cose Zero in barca a vela Cioè non so Se c'è stato brutto tempo Non so se ho imparato qualcosa Ma No 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 È impossibile Poi hanno sempre Quei capelli biondi Stinti dalla cosa Che fa stigire E le collanine E quegli occhiali di merda Specchiati Poi posso dire una cosa Invecchiano male Perché prendono Tantissimo sole Certo diventano Tipo dei pezzi di cartone Gli unici peggiori Dei velisti Sono quelli Che fanno arrampicata Mamma mia Delle persone Che di solito Suonano anche Suonano Sono persone amanti Della natura Generalmente lavorano in legno No io ho mollato il dumps Poi ho deciso Di fare arrampicata Sì sì E sono Gialmente il profilo Sono lui e lei Che fanno arrampicata insieme Sono due fregni Della madonna Cioè lei è una fregna Dio Lui più di lei E lui è quello Che poi alla fine La tua ragazza Si innamora di lui Eh sì Questo è quello che è successo Anche perché hanno il corpo Di persone che quando fanno l'amore Piegano le leggi Della gravità Proprio senza nessun problema Sì sì esatto Si mettono in mine Però Che paga Poi hanno quei fisici Da rettili Anche perché Solo muscoli allungatissimi Se tu Perché hai un muscolo Sull'unghia Cioè come fai ad avere Un muscolo E quello è il problema Perché se tu riesci A stare appeso Solo con tre falangi Dell'ardesia Sì sì esatto Con un tessuto Un po' più morbido Esatto Che cosa cazzo Puoi combinare Quindi questo è anche Loro i chitarristi Persone che con le dita Fanno miracoli Chi anche invecchia Male 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 Sono proprio quelli Che fanno corsa Sempre tutti i giorni Certo Perché Sai per esempio una roba Quando tu vedi Quegli uomini Che tipo A 55 anni Scoprono una corsa Cioè tu li vedi Poi all'inizio Fai Madonna ma Ma stai male No no Ho iniziato a correre Tutti i giorni 8 kg Ah ecco Che è successo Scusa No pensavo Madonna Stavo per aver Avertire Perché non fa bene Notizia del giorno Correre tutti i giorni Non fa bene Lo dice la scienza Sai cosa dice la scienza Corri pure tutti i giorni Se sei un atleta professionista Non farlo Se normalmente Ti mangi un carrello Di formaggi A pranzo A cena E poi dici Scarico tutto Sulle tue belle ginocchia Che sono le ginocchia Di una persona Che lavora nel campo Dell'economia Quindi facci un po' piano Seduto Una scrivania Carmelo C'è informazione da nutrizionista Secondo me Hanno scambiato tutti Il fare attività fisica Con fare attività sportiva Quando il nutrizionista Dice fai attività fisica Questi si iscrivono a Kung Fu Carmelo Una routine sportiva Che tu consigli Diciamo Da nutrizionista Un'attività fisica Ma no È quella informale In realtà Quella che viene consigliata Quindi Fare le scale Parcheggiare lontano E fare tutti i movimenti Che Ti dico una chicca Ad esempio Hanno fatto un calcolo Lo stand by Della lucetta rossa Del televisore Se tu ti svegli la mattina E vai a premere Il pulsante Per accenderlo E la sera Lo chiudi Hai perso un chilo In un anno Se somme le calorie Carmelo Non mi dire queste cose Se lo fai però Mangiando dei Doritos Intinti nel formaggio fuso Con della Nutella Hai perso un chilo Eh capito Se no io poi Mi hai detto tanto Uè ho parcheggiato A Piazza Sempione Mica qui sotto Ma il bello di avere un corpo 450 men Beh sì abbiamo parlato Dei profili psicologici Delle persone Che fanno gli sport Che più urtano Sulla faccia Anche i golfisti Se sei A un rotary A un pranzo A una cena del rotary club E senti qualcuno dire Cazzo quando hai fatto quel patto Sei proprio uno zio Cazzo Beh anche loro Poi c'è tutto quanto Il turismo legato al golf Infatti è una roba mega È l'Italia In Algarve In Portogallo In Irlanda Sì O in Europa Per parlare dell'Europa Che bello che è il golf Quella gente che va Sì 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 Che bello Quattro ore a camminare A incazzarti contro te stesso Perché non hai messo una pallina Però in realtà Mi incuriosisce molto il golf Sì Beh sono me Io ho paura che a una certa età Se inizi a farlo È una droga No non fai più nient'altro Finché riesci a muoverti Su un campo Preferisco Sì sicuramente Sicuramente è meglio Poi ci sono quegli sport Per direi persone Che hanno disturbi Della personalità Tipo? Tipo il triathlon Il pentathlon Il decathlon Cioè deciditi Non puoi essere forte È una roba Cioè nicciana Da super uomo Ma che cazzo? Il decathlon Sei forte in 10 specialità dell'atletica E sei un dio Sei veramente un dio greco Il corpo degli uomini e delle donne Che lo fanno È incredibile Sì perché poi c'è Il triathlon quali sono? Scusa Triathlon è Nuoto Bici e corsa Nuoto bici e corsa Quindi il tuo corpo subisce uno stress Non indifferente Tre volte maggiore Rispetto a chi Ascoltando uno di quegli sport Il pentathlon Sono 5 sport Tutti di origine antichissima Sì L'equitazione Lo sparo Della Gabbiano Sì lancio Della palla a corda Esatto E sono specialità olimpiche E poi c'è il decathlon Invece nel decathlon Se sei forte Sei un dio Perché sono 10 specialità Le vogliamo ricordare? No non le so Tutte Corsa o star Giavellotto Corsa o star Giavellotto Non so se è il miglio Corsa nei sacchi Pro Evolution Soccer 2019 Quello è il pentathlon moderno E no Il triathlon moderno No vedi sei un po' un pazzo Una cosa divertente Divertente relativamente Di questi ultimi mesi È il fatto che un sacco di persone Hanno scoperto Che avevano bisogno Di fare attività fisica Quando non si poteva uscire Non si poteva La questione dei runner Dovete stare a casa Merde Un mio amico a Torino Correndo si è affacciato Uno dalla finestra Io spero che ti voglia Tua madre Signora Ma non eravate Sabaudi Ma dov'è il rispetto Sabaudo Un giorno stavo correndo Con Alice e suo fratello E loro sono catanesi Una signora dalla finestra Gli ha urlato tipo Andate a casa E suo fratello Normalmente una persona Dolcissima e serenissima Gli ha urlato In catanese Tipo Tsukame Faminga Ha detto minchia Le minacce Con altri accenti Soprattutto se del sud Fanno molta più paura No comprensibile Aveva ragione Non si stanno facendo Niente di male No dicevo Le persone hanno dovuto Fare attività a casa E hanno scoperto I trainer online Allora ciao ragazze Sono sempre Sabina Oggi faremo un allenamento Per distendere la schiena Iniziate a sentire Tutta l'energia Che va fuori dal petto Dalle vostre tette Enormi come le mie strizzate In questo video Che vi sto facendo vedere Quello Oppure tutte quelle Le app della Nike Le app di Adidas Che è fatta Tutto probabilmente Era una app di Givova Sì sì No quelle che facevano Una cosa su YouTube Cioè la Domios Le azioni della Domios Durante il lockdown Quanto sono Sai tipo il meme Stonk Lockdown Meme No è che fa ridere Molte esercize Erano semplici Da fare ginnastica Ma immaginare Chi magari Si era iscritto A un corso di box Di una palestra popolare Quindi c'era Emilio Emilio che ha dovuto andare Allora ragazzi Collegati con la webcam Ci siamo Allora pronti Ah Fabri Poi chiedi a tua madre Di uscire gentilmente Sì per cortesia Possiamo uscire E poi sì Allora io purtroppo Non mi sento in cuffia Ragazzi Questa è una cosa meta Perché sia nel corso Di Emilio Non mi sento Che pure nel podcast Sia persino in questo momento A Carmè Che cazzo hai combinato L'importante è che Se per Carmelo si sente Noi non abbiamo problema Perché siamo speaker professionisti Carmelo Mandami un cenno Che qua dovevo iniziare Con il jet Va tutto bene Carmelo No ecco è tornato È tornato veramente Allora facciamo un applauso Scusate A Carmelo Che entra in scena Per la prima volta Durante Kashmir Carmelo avanzato Entra in scena Prepara i jack Ancora che purtroppo Mangia una patatina Grande Carmelo Bravo Carmelo Carmelino Carmelino Sei un grande Carmelino Mi sento bene Non c'ho problemi Carmelino Adesso sento un po' Ok ora ce l'ho Ora ce l'ho Allora pronti con il jeb Allora E U E U E U E U E U Pensa a fare quello Fare appunto Arti marziali O cose così Quello oppure Anche altri sport No io ricordo che Durante il lockdown Avevo iniziato a vedere Delle cose che poi Non ho mai fatto Cioè mentre comunque C'era chi Ficca ragazzi Io ti voglio iniziare a vedere Ragazzi oggi Vedremo come Sverniciare Correttamente Un tavolo Con l'acquaraggia E Riverniciarlo Cos'è mai fatto Mai fatto E ci sono proprio Mollato tutto lì Sempre Senti poi ci sono Quegli sport Gli sport di Tu vuoi fallo americano Football americano Baseball e hockey Io sono molto appassionato Il football americano Ah sì E mi sono esibito Allo stadio dei Guelfi Di Firenze Che è la squadra di Firenze Cosa hai fatto? Dove si unisce La follia del football americano Il macismo Maschilismo tossico Assoluto Con il macismo E maschilismo tossico Dei Fiorentini Quindi è per l'onore Di Firenze Allora Facciamo i Guelfi Facciamo volare alto Questi hoax E Sono Cioè il football americano Si chiama Si chiama Il calcio si chiama calcio italiano No Il football si chiama Football americano E allora è giusto Che si faccia lì Esatto E poi ci sono quelle squadre Poi c'è il baseball Che si gioca In Italia in pochissimi posti A Nettuno Nettuno Perché arrivarono gli americani Fichissimo A Rimini Credo che in Romagna si giochi Dove gli maroccani Sono venuti a scopare In realtà E a Milano All'Ares Dove giocavano Anche Elio E Faso E certo Che sono grandi Baseball Faso Faso Per essere stato squalificato Perché lui giocava in A2 E squalificato Perché gli trovavano Della cannabis Ed è doping Ed è doping Anche Fabio De Luigi Sai Grande baseball player È perché è riminese lui Ah infatti Vedi esatto E tutto torna Poi ci sono degli sport Per cui ho una passione Incredibile Che sono gli sport Che non si capisce bene Come inizi a farli Sono due Lancio del giavellotto E lancio del martello Cioè Quando è che tu Nella tua vita Decidi Che la tua passione È Volteggiare Vorticosamente Su una pedana Con una cosa in mano Da 87 chili E lanciarla Il più lontano possibile Io Mi sono sempre immaginato Siccome è anche una disciplina Femminile Ovviamente Quando ecco Una donna Prende passione Per il lancio Del martello Tutto nasce Secondo me Della passione Per le ballerine volanti Vedete loro Che volteggiavano E gli viene voglia Ma alle medie Non ti ricordi Che si faceva Sia il test di Cooper No? Il test di Cooper 12 minuti Si correva per 12 minuti Chi correva di più Faceva il test migliore Stavo leggendo Le ultime lettere Di Jacopo Ortis Mentre si faceva Il test di Cooper Oltre a quello Oltre al salto in lungo Al salto in alto Alla corsa Si faceva anche Con questa specie di sfera Che ricorda una palla Da football Con una coda Tipo da corda E invece sai cos'era? Era una sfera e basta Carina questa No raga Questa Questa soffende Questa se la prende Dovemmo tagliare E si faceva questa cosa La lanciavi Quando un professore scopriva Che tu eri bravo O brava A fare questa cosa È così che si indirizza Un atleta Verso Il giavellotto Per esempio Che di per sé È una disciplina Che ha l'idea Di essere un po' Antica L'idea di lanciare Una lancia Per una volta Penso ferire Un animale Ma allora Ecco perché Non sono diventato Uno sportivo Perché non ho fatto Il test di Cooper Il mio professore Di medie Di ginnastica Professor Dori Marchetti Perché cazzo Non mi ha fatto Fare il test di Cooper Che a quest'ora Poteva essere Un grande lanciatore Di giavellotto Ma io ero Test di Cooper Resistenza Io andavo spesso Alle gare delle medie Molto spesso Andavo alle gare Finché in terza media Non successe uno scandalo Luca Huberti Che oggi lavora Non so che cazzo fa Però robe gigantesche Di ambasciate Cose così Vinse il premio Per la composizione Di un'opera musicale E vinse un premio internazionale E il premio era Andare ad Amsterdam A visitare la casa Di Anna Frank Quando vinse quel premio Disse Però non è giusto Che chiamate sempre Gli stessi A fare le gare E io dissi E allora se vuoi Vado io a vedere La casa di Anna Frank Al posto tuo Ha riso metà classe La metà giusta L'altra metà Ha riso meno E la prof Era nella seconda metà Ma guarda un po' Che strano Per dire Che si facevano le gare Tu non hai mai fatto Le gare di atletica Le medie Sì sì Le facevo Che specialità Credo Che è il salto Quello degli ostacoli Ah beh Corso ostacoli Corso ostacoli Sì Corso ostacoli Io facevo resistenza E ho preso delle Papagne incredibili Io facevo corso ostacoli Sì E anche lì la mia carriera Di corridore Poi dai una Bonta di stinco Fortissima Se racconti un attimo Di dodici madonne Che hai conosciuto Sul calendario Taier Ti abbiamo sentito Un po' silenzioso In questa puntata Ma come mai Forse il tema Che cosa c'è Tu po' Cioè veramente Non hai mai avuto La passione Per lo sport Non hai pensato Adesso diventi uno sportivo No perché io ho Mio padre Che non gli ha mai fregato Un cazzo Perché guarda Quello è tanto Che gli ho sempre detto Cazzo sei pakistano Ma almeno il cricket Stavo per dirlo io Manco quello Niente Zero Manco il cricket Uno sport che Mentre lo guardi Devi leggerti le regole Quando sta accadendo Perché una partita Può durare tre giorni Sì sì Incredibile E ha un certo seguito Diciamo Eh dire proprio di sì Cazzo in India Se sei campione di cricket Se sei In Pakistan Carmelo Tu mai Non hai mai avuto Un'ambizione Di diventare Veramente forte In uno sport Ma una volta Mi sono promesso Carmelo Domattina Fai le flessioni Però ne ho fatte tre E mi sono ritirato Il più grande flessore Della storia Non è successo Ci sono invece Quegli sport Che però sono più Legati alle vacanze Cioè per esempio Tutti gli sport Che si fanno sulla neve Scupare mi moglie Per esempio Quelli No Gli sport invernali Che sono una filosofia Cioè sono un pretesto Lo sci è un pretesto Per fare la settimana bianca È un pretesto Per mangiare tantissimo Alle due di pomeriggio A meno che non sei nato In alta badia E hai le piste sotto Tu scendi dalla malga Dove sei nato La mattina mongi la capra E poi vai a sciare Sulle piste È un pretesto È una cosa proprio Dei romani Guarda che bello Ando a sciare Bello Guarda quando te esci A mattina Poi ci mangiamo Stinchino A pranzo Poi fai un'oretta Verso le cosi E poi riuscì A me piace salire Verso le undici Tre quarti Siamo io e Barbara Sempre Infonevia insieme Mi racconta No Francesco Si sveglia ancora prima Lui gli piace la neve La neve appena tirata Madonna Guarda Oggi sulle tofane Era una meraviglia La neve Che bello Oddio scusa Mi sta chiamando Ed Agostino Pronto Robè Che dici Ah sono uscite le foto Di me Com'è la tetta Bella tosta Se vede Che dici Un posto per te A casa c'è sempre Robè Vieni qua E poi Madonna Che palle E poi Vedere le persone Che vieni a scrocco Vanno a sciare Prendono la polenta Le spuntature Il brad Tu recuperi Il peso Ci vorrebbero Tre anni Di sci agonistico Per riprendere Un passo solo Sì Sono persone Che si vogliono uccidere Perché poi andare a sciare Dopo quella roba lì E poi c'è invece La variante Che è lo snowboard Che è come prima Ma con velleità Cioè comunque Se pratichi lo snowboard Sei generalmente Il ragazzetto Ok È una roba molto Da fonici Da tecnici del suono Sì così Ah bravissimo Esattamente Tecnico del suono Snowboard E arrampicata Ad estate Assolutamente sì Assolutamente sì Orre è diventato Uno sport invece Cool Ecco subito No Sì Sapevo che Tahir Avrebbe parlato Adesivo della billabong Sul cofano Sul portabagagli Dell'Apolo E li vedi Sì E generalmente Serie adolescente Nei primi 2000 Ragazze snowboarder Sogno erotico Sogno erotico È vero Le ragazze snowboarder Sogno erotico Occhi azzurri Con la cosa Eh però Io ho sempre amato Di sci E solo di sci Quindi era come scopare Con una milanista Una Cioè era un avversario Era come fottere Con un avversario Impossibile Le tre B Biliardo Bocce Bulling Non so perché ho scritto Questa cosa Beh bocce È divertente D'estate D'estate Al mare A Petanc Sulla spia Di biliardo La bucca è larga Così perché E quindi non ti riverti No mai mai Poi si gioca Dopo aver bevuto Tipo 15 Whisky Begli ambienti I posti del biliardo In Italia Molto A Roma soprattutto Gender gap Eliminato Sì Per frequentare Da europarlamentari Professori universitari Sì sì Difficile che vendano droga Difficile C'è una signorina Lasciamo le spazio Lasciamo giocare Evidentemente le spazio Una signora Può venire Prego E poi Bulling Che è Cazzatona Tu sei mai andato Quello via Le Regina Margherita Sì via Le Regina Anche al Brunswick Via dell'Acqua Acetosa Che è storico Tra l'altro Ha salito un sacco di tempo Vabbè lì ci si diverte Sì perché poi si ricrea Il clima americano Sì c'è quella roba così Poi comunque dopo il grande Le Boschi c'è avuto il boom Jesus Però è bello Però è bellissimo Bellissimo A me diverte sempre molto Alle ragazze piace il bullying Sì è vero Hai visto? È vero È vero Infatti potremmo organizzare Eh subito eh Perché non facciamo una Cashmere Bulling Night Brava Infatti facevano le feste compiabili Poi erano quei posti Il bullying Un po' tipo blockbuster All'epoca Dove c'era Quell'atmosfera americana Cioè tipo da blockbuster Mi ricordo Vendevano quei Brava Tipo i pop corne Che non si trovavano in Italia La Gendaz E ugualmente Di bullying Frappea Sì c'era roba Comunque C'è frappea C'era roba Pop corn al saramello Erano dei posti Dove a 13 anni Ti sentivi un po' in California Mi sento di lanciare una sfida Caro amico Federico Caro amico Luis Sai il tuo nome Vogliamo fare un cashmere Contro un muschio selvaggio Bulling Portatevi Portatevi l'ospite che volete Tanto vi facciamo un mazzo così Tahira Bulling Perché noi abbiamo Tahira Tahira Bulling Cazzi vostri Cazzi vostri Ha la palla personalizzata Esatto Con la sua faccia Quella sì che è una sfera E basta Ricoperta Di diamanti Ricoperta Di diamanti Bellissimo Mi fa un mazzo Non è Carmelo a bullying Sì secondo me Fa solo strike Si umilia Mi piace ma io gioco A bullying però Carmelo Gioca solo tirando fuori Il pisello e le palle Dalla patta Esatto Per distrarre gli avversari Come se niente fosse Si siede con te Segna lo score E poi torna a giocare Mi dispiace Ho fatto un altro strike Carmelo ha il cazzo di fuori Eh sì io gioco solo così No a bullying O faccio strike o canale Le vie di mezzo non riesco Canale Che è una frase che usi Anche con le donne O faccio strike o canale Cara la mia Come ti chiami? Rose Piacere Jack Si affonderà insieme stasera No invece andiamo a chiudere Con qualcosa che alcuni Considerano sport E lo è Ovviamente lo è Altri no Senza motivo Che sono gli sport Dei motori Ah sport Hai mai avuto la passione Per tipo l'idea di guida Io odio guidare forte Odio a morte le persone Che guidano forte Non si dimostra in strada Se sei forte Si dimostra in pista E questo lo dico davvero col cuore Ma non mi ha mai appassionato È la frase da mamma Che hai detto Non parla di da zio Guarda Sai cosa? Da zio che però C'è la BMW alpina Bravo esatto Esattamente Perché non si dimostra strada Si dimostra in pista Va bene Casomai ti affitti Ti fai il giro Ci ho fatto il giro Con la Porsche Ho portato mio nipote Ci siamo divertiti Certo 20 minuti 300 euro No a me non mi appassionano Anzi odio soprattutto gli uomini Che flexano i loro motori E soprattutto le loro abilità Con la macchina Non me ne frega un cazzo Piuttosto ti faccio un bocchino Se deve essere Ma no nel senso che non è il modo giusto Di mostrare la propria virilità Secondo me Ma molti uomini lo fanno Eh lo so Lo so Con quel problema del motociclismo Però è vero che poi molti Equivocano Perché la Cristoforo Colombo Non è Maronello Va bene Però non entra nella testa di molti Ma poi anche lì Com'è che poi diventi pilota di Formula 1 Come funziona Una volta dovevi essere vicino ai circuiti In qualche modo Schumacher era figlio del custode Del cartodromo Cioè dovevi avere Adesso ultimamente Sono molto di voga I figli dei super ricchi Cioè i miliardari E appunto Perché costa tantissimo Da quando poi hanno fatto la soluzione ibride Per la Formula 1 È un casino Invece la moto Ancora Anche se la sta perdendo Una punta di dimensione Che c'è Se vieni da quella regione lì Allora lo facciamo Se vieni da quella regione lì Sono salito in sella E sono andato Cazzo Ah Valentino Però quindi Vabbè Quindi automobilismo Anche la Formula 1 Sta diventando elitaria Quindi a breve Avremo così come era Con l'equitazione Questi signori romani Guarda Stanno andando a prendere Orsetta e Delfina A Formula 1 Speriamo Che non hanno schiantato Di nuovo la macchina Guarda Ci abbiamo il giardino A pezzo Abbiamo dovuto vendere La cazza di Cortina Per far correre Per comprare Poi ti vede la tua sorella No Lei la voluta rosa L'altra verde Però Quelli sono sport belli O li puoi solo seguire Ma certo Una follia Anche solo pensare Di farli Scusate Ho letto Quest'ultimo appunto Gli sport Che non dovrebbero Essere Chiamati tali Io mi Arrogo Qui il diritto Di dirlo Fai indovinare Quali sono Almeno due Sport che non dovrebbero Essere tali Invece Un sacco Non so Gli esports Bravo Bravissimo Hai visto L'hai beccato subito I videogiochi I videogiochi Se si chiamano videogiochi Come il football Si chiama football americano Che si faccia in America Che si faccia nei video Ma non chiamarli sport Perché quando vedi Che il ragazzino Tredicenne Italiano Il primo non sudcoreano Voglio Ma sì Voglio includere Alle olimpiadi Ragazzi Se serve abilità Nel farlo Ci fai i soldi Appunto È una cosa Di riflessi Soprattutto Sta fissa Questo berlusconismo In questo ragazzo Perché Non dovrebbero Essere sport Germe del capitalismo Cioè questa è una cazzata Da boomer gigante Perché è un'attività mentale Non fisica Assolutamente What E che c'è Un'attività altrettanto fisica Per i pollici Non è per i pollici Allora tra i tipo Gli scacchi Comunque serve Bridge È uno sport Bridge Bridge è uno sport Dama è uno sport Ma non è uno sport Ma perché dovrebbe essere uno sport Cioè io Contempla Cioè c'è l'attività fisica Allora Non siete voi I presidenti Delle SL Del CONI Che avete deciso È Malagò Lo sappiamo L'ha detto sì È uno sport Che volete Malagò come distingue Fra sport e non sport Quando gli dicono Di una nuova attività Ma c'è fregna Questo è il presidente Del CONI italiano Ecco no L'unica donna Che è arrivata alta Negli sport E si è scoperto poi Che c'aveva il cazzo Esattamente Ma allora è un luogo Ma allora è un luogo comune Che dovremmo fare No 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 È vero Ma chi era È tipo questa giocatrice Non mi ricordo Se americana o coreana Che in realtà è un trans Ci sono le categorie apposta È ovvio Ma scusa Ma negli sport Si divide maschile e femminile No 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 Però non c'è Negli sport No negli sport Quelli No scusate Ok a posto Va bene Non c'è nessuna donna Forte Anche perché giustamente Le donne essendo essere superiori Dicono se devo fare uno sport Faccio uno sport vero Non sto Non è che sto tutto il giorno A giocare a Grand Theft Auto 3 Passo la mia vita A giocare a Grand Theft Auto Non è che ora Qualsiasi videogioco È sport No Sì a breve ci troveremo Ma non è Non funziona Se gaioli E bentornati qui su Rai Sport Per la cronaca Di Snake Modalità 99-10 Abbiamo il nostro atleta Italo-Pakistano Tahir Hussein Di anni 47 Andiamo con il nostro Commentatore tecnico Doardo Ferrario Da non videogiocatore È incredibile Fabio È incredibile Vedere come questo ragazzo Sappia utilizzare così bene I pollici Guarda Guarda come maneggia bene Quel serpente Guarda come non lo sta Mandando a sbattere Lungo la paretina Fabio È incredibile Allora siamo arrivati Alla finale Tahir Hussein Dovrà combattere Contro un bambino Di 6 anni Che ha rubato Il cellulare Alla madre Non vedo l'ora Di mettere Questo video Con questo minutaggio Nel gruppo Più grosso Di sports italiani Mettilo Mettilo Dell'associazione Giocatori di 1 Di grosseto Siamo contenti Di aver riusciti A includere 1 Dalle olimpiadi I tornei di 1 Più 4 Più 8 È finalmente riconosciuta L'attività sportiva Un gioco di carte Storico Che non a grosseto Ci si è sempre giocati Bentornati Alla finale di 1 L'atleta Sempre Tahir Hussein Pentatleta Ma la tua squadra Del cuore Non ha la sua Più 4 Non sono sicuro Che l'Inter Cambio giro So benissimo Che tante squadre Professionistiche Pagano dei ragazzi Per giocare a FIFA C'è il gocolone Rosso Non riesco a Smettere di pensare Ha giocato bene Ha fatto un buon Più 4 Sul finale L'importante È dare sempre Il 110% Come diceva De Coubertin L'importante È averci i sordi A casa Poi lo sport Si divertì La testa Non ha cifra I spunti Perché duri Molto di meno Che è la stessa cosa Che dico con le donne Duri molto di meno Perché dopo i 21 anni I riflessi iniziano a calare Quindi tu Massimo a 24 A meno che non sei Proprio fortissimo Non sei il Cristiano Ronaldo Hai una vita Oddio no Cioè no Dipende In Europa Se tu sei una star Di sport Sei Dio Certo In Corea Ancora più Però in Corea Ci stanno proprio Dei contratti Dove dicono Ok se non vinci un campionato Non puoi avere amici No non puoi avere amici Non puoi avere amici Non puoi avere amici Se non vinci Tipo poi Il campionato Quello più grande Che è solitamente L'Europeo Ma l'amicizia Non è che si misura Una fidanzata Una fidanzata Devi giocare 14 ore al giorno Ma chi te lo dice Cioè che è la federazione Che controlla È la squadra Scusa Fai vedere se hai ciulato Fai vedere un po' Scusa Ho un appello Scusa Forse è importante Usciamo un attimo Mi pare che ti chiami Martina Non sono sicuro Che ti chiami così Sei la nuova fidanzata Di Yannick Sinner Ora Lui è la superstar Del tennis italiano Tu hai in mano Il futuro del tennis italiano So che sei un influencer Tutti abbiamo un po' paura Noi appassionati Ma abbiamo anche Grande fiducia in voi In voi Sì Mi raccomando Se no si fa come in Corea No fidanzate No amici Che Yannick ha un obiettivo Si chiama grande slam E ti mandiamo In Svizzera Cantone tedesco Vabbè C'è da dire che in realtà Le famiglie in Corea Ma proprio non il bambino Tutta la famiglia Invece di mettersi a vedere La partita Si mette a vedere Tipo la partita di League of Legends E per me questa cosa Sarà un back Sarà un boomer Sarà quella Ma questa cosa mi mette La pelle d'oca Eh oh Però A me E loro mi dicono A me Bravo copriti Mi direbbero Però non Mi fa strano Videogiochi Sono sport ragazzi Voi che avete Assolutamente no Secondo me Voglio negare la dignità Del videogioco Perché è assolutamente Un mondo enorme Che ha il suo senso Però Da qua A paragonare una partita Di pallavolo A una partita di Ragazzi però Voi avete un attimo L'idea che il videogioco È il coglione Che sta là giocando Ma no Non è per quello Guarda Sono sempre giochi di gruppo Che li fanno vivere insieme Mettono queste cinque persone Sono quasi dei reality Non sono degli sport Sono attività diverse Cioè non mi sembra Che possono essere catalogate Come guardare un film O leggere un libro Sono due cose diverse Per dire una domanda La pesca È uno sport La pesca sportiva La pesca sportiva Sì Ecco non me la sentirei mai Di dire che non è uno sport Sì ragazzi Pescat Sì comunque c'è uno sport Tu sei un uomo E la pazienza di stare Sette Anche la caccia Sarebbe Teoricamente La caccia È uno sport Avevo capito La cacca La cacca Comunque questo è il torneo di cagantone Bentornati al torneo di cagantone Specialità legume Mi avete categorizzato bocce come sport Eh Vallo a dire Bocce Hai comunque il bicipite Il dorsale Hai la prostata Soprattutto quando giochi a bocce Questo video con questo minutaggio Nella più grande community Di giocatori di bocce Sono tutti morti Non è vero Forse non è l'anno giusto per dirlo Carico nella più grande community Dei incel italiani Fanno un culo così Detto questo La differenza sarà Quando potrai dire ai tuoi genitori Vado a un corso di FIFA Lo so che li fanno Lo so Sto cercando di avvicinarmi a te Sto scappando Se non fai di tutto per allontanarti Sono andato a prendere del fine Orsetta a FIFA Guarda Quest'anno Veramente Non vogliono Proprio sentire cose Ma in Italia Sono stati due tre scandali Tipo Per me questa è una cazzata Che il genitore dice Al bambino di nove anni Ok Lasci scuola Mettiti a giocare Ti pago un coach Per te è una cazzata Ho paura di chiederti Da che punto di vista No vabbè Dai no Nove anni è un po' presto No in generale Non puoi dire a uno Anche Cioè per me serve una cazzata Quasi anche lo sport Dire Ok Lascia tutti gli studi Sei un quindicenne In quindicenne Chissà cosa diventi Tra cinque anni Però i calciatori Tennisti Già a quindici anni Si capisce Se possono diventare Dei campioni Diciamo che iniziano Abbastanza presto Ecco Ecco E qui Forse possiamo anche andare in chiusura Parlando dei genitori Quando vanno a seguire i figli Che fanno sport Madonnina Persone Pericolose Pericolose Beh Quando tu sei Papà E porti Tuo figlio A giocare Contro la squadra Di calcetto A Viterbo La domenica mattina Alle nove Al campo ghiacciato Seduto su queste panche gelide Con i genitori Di questi ragazzini Fascisti Pazzi Della tuscia Folli Con le armi Nei pantaloni Mio padre l'ha fatto Per due figli Eh lo so E sono stati i giorni più belli Cioè veramente Onore al merito A questi genitori Che si accolgono A questa rotura Di coglioni Però tuo padre Calciato Ex Cioè insomma Giocatore Grande amante del calcio Sì però Anche una persona con senno Non è che diceva Sì ma Lui dice sempre Che erano forse Anche le domeniche O i sabati Più divertenti Perché lì c'è una fauna Certo I genitori Che ti sorprende Ogni settimana Però non hai mai visto Non hai mai aperto il bagno E hai trovato tuo padre Che pigliava schiaffi Tuo fratello Ma che cazzo hai fatto Se giochi terzino Gli adeviti Tu Non è mai successa questa quarta Classica emitazione C'è un padre Tiposo zen Proprio Sì sì Certo Detto perché No però capito Immagina di veramente Quando poi si faceva fallo Quando il bambino romano Faceva fallo Al bambino viterbese Tu avevi otto hooligan Che si alzavano La messa De verda Dì a tu Fio De Sate De Que Ma non posso Però mio padre Ha sempre detto Che le peggiori Erano le madri Le mamme Perché hanno la Le mamme viterbesi La foga della mamma E certo E certo E lì Gli sale l'etrusco Proprio Gli sale l'etruria E temenano E rompo un coscia Ci sono appunto Peraltro Ritrovati in alcune tombe Etrusche Ci sono dei vasi In cui si vedono Dipinte delle mamme Viterbesi Con la mano cucchiara Che dicono Vitero Per culo Comunque lo sport È un grande gioco È bello farlo È bello Continuare a farlo A tutti i livelli Ma i genitori Siete No Non è che posso fare Troppi consigli Rompete il cazzo I figli che vogliono Giocare a fifa Quello sì Se giochi a fifa O a league of legends Si chiama così League of legends E allora lì devi diventare un pro E allora lì devi insistere Quello va bene Tu quella banda larga Me la devi friggere Devo trovare il modem Che frigge A fine giornata Ecco Un problema degli sports È che C'è molta No proprio nel mondo In generale C'è molta più gente Che gioca Cioè nel senso A 17 anni A 20 anni Se stai giocando a calcio Quanti cazzo Possono essere i coglioni Che a 20 anni Giocano a calcio Più se sei una donna E vuoi fare lancio Del martello Quanta competizione c'è C'è Mentre invece Non c'è questo limite Mentre invece il mondo È il limite Capito Ci stanno magari 70 milioni di giocatori E però Pro ne diventano 100 200 A saperlo diventavo Campione di Mario Kart Che è l'unica cosa La quale nella vita Ho veramente dedicato Tanta tempo Tanta attenzione Tanta dedizione E forse però Non è troppo tardi Pensa Campionato di boomer Che giocano a Mario Kart Ancora Ancora La categoria Boomer Ancora Ancora ci devono arrivare Ma come lo sport Si è evoluto Da attività umane Come la caccia La pesca Ma perché non aggiungiamo Alle olimpiade Anche i rider Con le biciclette O addirittura Tutti i ciclisti Obblichiamoli ad avere Questo box dietro Bellissimo Bello Peraltro E' anche un buon consiglio Per violare il coprifuoco Fingete di avere Un coso di delivery O nessuno Mi può fare portatelo a me Il ciclismo Come ho sentito dire Da una persona Che non lo fa Mi è stato detto E' lo sport Di chi non vuole stare A casa con la moglie E quanto è vero Sai che il più grande Campione di ciclismo Che io conosca È Ciao papà Io sono Mio papà Quando corre A volte mi fa sorridere Ma la sua passione Per il ciclismo È una delle cose Più vere Che esistono al mondo E quindi questo significa Che forse a casa Non ci vuole stare Ciclette No ciclette Ma i bici Sempre Mi dispiace Ma devo andare Sulle Alpi Marittime Questo weekend Proprio necessità Di andare Con altri otto colleghi Sulle Alpi Graie In bici A farmi venire Un infarto Piuttosto che stare A casa con te In questo momento Esattamente questo E se è possibile Se per caso Incrociamo Una runner Carina Tutti e nove Le suoneremo Qualche sinfonia Di Beethoven Fatta a forma Esatto Però quello è sul clitorio Fatta a forma Di molestia Quindi ciclisti Non molestate le persone Le donne che corrono Perché poi Non è una cosa carina Anche perché da soli Non lo fareste Perciò Bene Ringraziamo il nostro pubblico Grazie Cecilia Alice Grazie Tahir Grazie Carmelo Grazie Leonardo Signori Vediamo la prossima puntata Di Cashmere Ciao 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 Grazie.